Ok possiamo iniziare Oggi ragazzi siete qui Oggi ragazzi siamo ancora tornati con un nuovissimo video Oggi ragazzi come leggete dal titolo Non giocheremo a nessun gioco Ma bensì vi volevo dire Che aprirò un altro account Instagram Che si chiamerà Ancora devo scegliere il nome Non devo chiamarlo tipo Riccardo Direx Tipo 24 Non è così Ma sarà un altro nome più figo Ora vado a cercare un po' di nomi d'arte Vado a vedere Magari metterò il mio nome e cognome Ancora l'account Instagram Il mio secondo account Instagram Ancora ce ne vuole di tempo Qualche due settimane Forse si aprirà questo secondo account E niente Dovete iniziare il video Dovete iscrivervi al canale E lasciare un bel like E posso portare questo video E inoltre seguitemi anche su Instagram Riccardo Trattino basso Direx27 Ok raga Direi di andare a iniziare A parlo un po' di cose Ok raga Allora Ora voi Qui sotto nei commenti Ah no vero Ci sono i commenti disattivati Perché ci sono i commenti disattivati Dato che voi mi seguite su Instagram Ditemi nei direct Un nome Per il secondo account Il nome più bello Lo metterò nel secondo account ragazzi Nel secondo account Avrei pensato di mettere All'ora 14 Una nuova foto Ogni giorno All'ora 14 Nel secondo account Ci sarà una nuova foto Poi la farò un po' di storie Poi la farò un po' di storie Ma non ho uguale a queste Cioè non metterò in quel video Cioè in quelle storie Nel secondo account Il video online Ma lo metterò nel Nell'account principale Ecco Nell'account principale Nel secondo account Farò anche un po' di live La sera No quella la sera No quella la sera Che ho la sera Faccio le live su YouTube Le potrei fare Quando tipo Di estate Di estate Una live mattutina Su Instagram Nel secondo account ci sta Ma non credetevi che Sarà solo nel secondo account Le live mattutine di estate Ma ben si sarà Nell'account principale Instagram E su YouTube Che faremo le live mattutine Su Fortnite Su YouTube Mi vesto Mi vesto Dopo inizierò a fare Live Instagram Live YouTube di mattutine Tutte cose Raga Nell'account Nel secondo account Caricherò foto Farò un po' di live Un po' di storia Quando sarò fuori Un po' di Quando sarò Al ristorante E niente raga Questo è l'instagram Riccardo Trattino basso Direct 27 Andatemi a seguire E ditemi nei direct Il nome più bello Il nome più bello Raga Sarà Messo nel secondo account Un'altra cosa Che volevo dirvi Quando lo creo Sto account Oggi ne abbiamo 22 Dai Facciamo raga Che lo creo Il 2 Di febbraio Raga Quindi avete tempo Fino al 2 Febbraio Per scegliere Un nome Figo Per il secondo Account Raga Va bene E un'altra cosa Che volevo dire La colla secca So che questo video Vi sta annoiando Però Quando devo creare Tipo account Instagram Account YouTube Ve lo devo dire Perché se no Non mi andate a seguire Non sapete come Mi chiamo E poi alla fine Abbordello E niente Il nome più bello Sarà messo nel secondo account Quante volte Cavolo l'ho detto Il nome più bello Sarà messo nel secondo account Ehm Più in là Raga Più in là Lo sapete cosa farò Più in là Creo Un secondo account YouTube Raga Più in là Più in là Ci sarà Un secondo Account YouTube Niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che Vi sia piaciuto Perché Cioè Non si parla di niente Vabbè Si parla di Instagram Perché Se tipo Creavo Il secondo account Senza dirvi niente Magari Non Come dire Non sapevate Come mi chiamavo Ecco Va bene E niente Ragazzi Il video finisce qua Spero che vi sia piaciuto E se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E inoltre Seguitemi anche Su Instagram Riccardo Trattino Basso Diretti 27 Ragazzi Noi ci vediamo Stasera Le 21 Con la live Di Fortnite Per favore Raga Non vi fate staccare Tardi Perché domani O scuola Almeno fino alle 2 e mezza Però Più tardi No raga Per favore Per favore Perché allora La cosa consiste Ogni iscrizione E ogni follower 10 minuti Quindi raga Per favore Si vi potete iscrivere Però Raga Stiamo calmi Stiamo calmi Fino alle 2 e mezza Posso stare Non più tardi Per favore Ragazzi Vi vedo l'appuntamento Ad un prossimo video Siamo Bruders